Vi heis tu? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Woher com'nstu? Di dove sei? Di dove sei? Di dove sei? Woher com'nstu? Dove bivì? Dove bivì? Dove bivì? Wie alt bist du? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Ich bin 20 Jahre alt. Ho vent'anni. Ho vent'anni. Ho vent'anni. Ich verstehe nicht. Non capisco. Non capisco. Non capisco. Wo arbeitest du? Dove lavori? Dove lavori? Dove lavori? Lavoro al ristorante. Lavoro al ristorante. Lavoro al ristorante. Sono disoccupato. Ich bin arbeitslos. Sono disoccupato. Sono disoccupato. Ich bin selbstständig. Sono un lavoratore autonomo. Sono un lavoratore autonomo. Sono un lavoratore autonomo. Ich arbeite zurzeit nicht. Al momento non sto lavorando. Al momento non sto lavorando. Al momento non sto lavorando. Wo ist das front office? Dove ist das front office? Dove ist das front office? Dove ist das front office? Ich bin gerade beschäftigt. Sono occupatore. Sono occupatore. Sono occupato ora. Wir haben ein Treffen um neun Uhr. Abbiamo un incontro alle nove del mattino. Abbiamo un incontro alle nove del mattino. Abbiamo un incontro alle nove del mattino. Ich habe drei computer. Otre computer. Otre computer. Otre computer. Otre computer. Questa è una grande opportunità. Per quanto tempo hai lavorato qui? Per quanto tempo hai lavorato qui? Per quanto tempo hai lavorato qui? Lavoro qui da anni. Lavoro qui da anni. Lavoro qui da anni. Hai ricevuto la mia e-mail? Hai ricevuto la mia e-mail? Hai ricevuto la mia e-mail? Posso richiamarti più tardi? Posso richiamarti più tardi? Posso richiamarti più tardi? Io voglio parlare con il direttore. Voglio parlare con il direttore. Voglio parlare con il direttore. Chi è il tuo capo? Chi è il tuo capo? Chi è il tuo capo? La fotocopiatrice non funziona. La fotocopiatrice non funziona. Devo fare una copia. Devo fare una copia. Devo fare una copia. Ne voglio una copia. Devo fare una copia. Devo fare una copia. Devo fare una copia. Devo stampare questo documento. Questa è la tua firma? Unterschreiben Sie bitte hier. Firmé qui. Firmé qui. Hai firmato il contratto? Hai firmato il contratto? Hai firmato il contratto? Hai firmato il contratto? C'è uno sciopero? C'è uno sciopero? Ho bisogno di depositare un assegno. Ho bisogno di depositare un assegno. Ho bisogno di depositare un assegno. Ecco il passaporto. Ecco il mio passaporto. Ecco il mio passaporto. Dove sono i taxi? Dove sono i taxi? Dove sono i taxi? Io sono un turista. Sono un turista. Sono un turista. Sono un turista. Ho bisogno di depositare un'adresse. Ho bisogno di depositare un'adresse. sto cercando questo indirizzo. Ho bisogno di depositare un'adresse. Ho bisogno di depositare un'adresse. Ho bisogno di depositare un'adresse. Sono in vacanza. Sono in vacanza. Sono in vacanza. Sono in vacanza. Sono qui per lavoro. Das ist mein erster Besuch. è la mia prima visita. È la mia prima visita. Ho bisogno di depositare un'adresse. 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 Questo è il mio volo. Questo è il mio volo. Questo è il mio volo. Questa è la mia valigia. Questa è la mia valigia. Questa è la mia valigia. L'hotel è vicino. L'hotel è vicino. L'hotel è vicino. L'hotel è vicino. Gira a sinistra qui. Gira a sinistra qui. Gira a sinistra qui. Gira a sinistra qui. È troppo gustoso. È troppo gustoso. È troppo gustoso. Gira a sinistra qui. Gira a sinistra qui. Gira a sinistra qui. Dove devo pagare? Dove devo pagare? Gira a sinistra qui. Gira a sinistra qui. Gira a sinistra qui. Dove è la banca più vicina? Dove è la banca più vicina? Dove è la banca più vicina? Dove è il centro commerciale? 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 Dov'è il cinema? Möchtest tu einen Film sehen? Voi vedere un film? Vuoi vedere un film? Vuoi vedere un film? Wo kann ich ein Auto mieten? Dov'è posso nolleggiare una macchina? Dov'è posso nolleggiare una macchina? Dov'è posso nolleggiare una macchina? Ich möchte in den Park gehen. Voglio andare al parco. Voglio andare al parco. Voglio andare al parco. Dov'è l'ospedale più vicino? Dov'è l'ospedale più vicino? Dov'è l'ospedale più vicino? Wo kann ich ein Fahrrad kaufen? Dov'è posso comprare una bici? Dov'è posso comprare una bici? Dov'è posso comprare una bici? Bist tu hungrig? Dov'è posso comprare una bici? Dov'è posso comprare una bici? Dov'è posso comprare una bici? Bistu durstig? Möchten Sie etwas zu trinken? Du siehst heute gut aus. Sei carina oggi. Sei carina oggi. Sei carina oggi. Wie bist du? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Ni dove sei? Ni dove sei? Wo wohnstu? Dove vivi? Dove vivi? Wie alt bist du? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Ich bin zwanzig Jahre alt. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Wo arbeitest du? Nove lavori. Nove lavori. Nove lavori. Ich arbeite im restaurant. Lavora al ristorante. Lavora al ristorante. Lavora al ristorante. Ich biních hungender. Lavora al ristorante. Sono un lavoratore autonomo. Al momento non sto lavorando. Al momento non sto lavorando. Wo ist das front office? Dov'è il front office? Dov'è il front office? Dov'è il front office? Dov'è il front office? Abbiamo un incontro alle nove del mattino. Abbiamo un incontro alle nove del mattino. Ho tre computer. Ho tre computer. Ho tre computer. Ho tre computer. Questa è una grande opportunità. Questa è una grande opportunità. Questa è una grande opportunità. Quanto tempo hai lavorato qui? Per quanto tempo hai lavorato qui? Lavoro qui da anni. Lavoro qui da anni. Lavoro qui da anni. Hai ricevuto la mia e-mail? Hai ricevuto la mia e-mail? Hai ricevuto la mia e-mail? Posso richiamarti più tardi. Posso richiamarti più tardi? Posso richiamarti più tardi? Io voglio parlare con il direttore. Chi è il tuo capo? Chi è il tuo capo? Das copiergeret funzioniert nicht. La fotocopietrice non funziona. La fotocopietrice non funziona. Devo fare una copia. Devo fare una copia. Devo fare una copia. Möchten Sie una copia? Devo fare una copia. Ne vuoi una copia? Ne vuoi una copia? Devo stampare questo documento. Devo stampare questo documento. Devo stampare questo documento. Questa è la tua firma? Questa è la tua firma? Questa è la tua firma? Questa è la tua firma. Questa è la tua firma. Questa è la tua firma. Hai firmato il contratto? Hai firmato il contratto? C'è uno sciopero. C'è uno sciopero. C'è uno sciopero. Ich muss einen Scheck hinterlegen. Ho bisogno di depositare un assegno. Ho bisogno di depositare un assegno. Ecco il mio passaporto. Ecco il mio passaporto. Dove sono i taxi? Dove sono i taxi? Dove sono i taxi? Io sono un turista. Sono un turista. Sono un turista. Ich suche diese adresse. Dove è questo posto? Dove è questo posto? Dove è questo posto? Io sono in vacanza. Sono in vacanza. Sono in vacanza. Sono qui per lavoro. Sono qui per lavoro. Sono qui per lavoro. sono qui per lavoro. È la mia prima visita. È la mia prima visita. È la mia prima visita. ho intenzione di rimanere un mese ho intenzione di rimanere un mese ho intenzione di rimanere un mese quando partirà il volo? quando partirà il volo? quando partirà il volo? questo è il mio volo 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 questa è la mia valigia questa è la mia valigia l'hotel è vicino l'hotel è vicino è questo il prezzo è questo il prezzo è questo il prezzo è il prezzo è troppo gustoso è troppo gustoso è troppo gustoso costa poco costa poco costa poco dove devo pagare? dove devo pagare? dove devo pagare? questo è il prezzo qui è il prezzo ecco il prezzo ecco il prezzo ecco il prezzo ecco il prezzo dove è la banca più vicina? dove è il centro commerciale? dov'è il centro commerciale? dove è il centro commerciale? cosa vuoi comprare? dove è il centro? Vuoi vedere un film? Vuoi vedere un film? Dove posso noleggiare una macchina? Dove posso noleggiare una macchina? Dove posso noleggiare una macchina? Voglio andare al parco Voglio andare al parco Voglio andare al parco Dove è l'ospedale più vicino? Dove è l'ospedale più vicino? Dove è l'ospedale più vicino? Dove posso comprare una bici? Dove posso comprare una bici? Dove posso comprare una bici? Bist du hungrig? Aifame 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 Ich bin hungrig Bist du durstig? Hai sete? Hai sete? Hai sete? Hai sete? Vuoi qualcosa da bere? Vuoi qualcosa da bere? Du siehst heute gut aus Sei carina oggi? Sei carina oggi? Sei carina oggi? tipo Bi hai suوا Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Dove viviamo? Dove vivi? Wie alt bist du? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Ich bin zwanzig Jahre alt. Ho vent'anni. Ho vent'anni. Ho vent'anni. Ich verstehe nicht. Non capisco. Non capisco. Non capisco. Wo arbeitest du? Dove lavori? Dove lavori? Dove lavori? Ich arbeite im Restaurant. Lavora al Ristorante. 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 Sono un lavoratore autonomo. Al momento non sto lavorando. Al momento non sto lavorando. Al momento non sto lavorando. Dove è il front office? Dove è il front office? Dove è il front office? Sono occupatore. Sono occupato ora. Sono occupato ora. Abbiamo un incontro alle nove del mattino. Abbiamo un incontro alle nove del mattino. Ho tre computer. Ho tre computer. Ho tre computer. Ho tre computer. Questa è una grande opportunità. Questa è una grande opportunità. Questa è una grande opportunità. Per quanto tempo hai lavorato qui? Per quanto tempo hai lavorato qui? Per quanto tempo hai lavorato qui? Io ho lavorato qui da anni. Lavoro qui da anni. Lavoro qui da anni. Hai ricevuto la mia e-mail? 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 Posso richiamarti più tardi? Posso richiamarti più tardi? Posso richiamarti più tardi? Voglio parlare con il direttore. Voglio parlare con il direttore. Chi è il tuo capo? 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 Non funziona. La fotocopiatrice non funziona. La fotocopiatrice non funziona. Chi è il tuo capo? Chi è il tuo capo? Devo fare una copia. Devo fare una copia. Chi è il tuo capo? 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 Chi è il capo? Qui è il capo? Firmì qui. Hai firmato il contratto? Hai firmato il contratto? Hai firmato il contratto? C'è uno ciòpero. C'è uno ciòpero. C'è uno ciòpero. Hai bisogno di depositarlo? Ho bisogno di depositare un assegno. Ho bisogno di depositare un assegno. Ecco il mio passaporto. Ecco il mio passaporto. Ecco il mio passaporto. Dove sono i taxi? Dove sono i taxi? Dove sono i taxi? Io sono un turista. Sono un turista. Sono un turista. Sono un turista. Ecco il mio passaporto. Sto cercando questo indirizzo. Sto cercando questo indirizzo. Dov'è questo posto? Dov'è questo posto? Dov'è questo posto? ? Dov'è questo posto? Sono qui per lavoro. Sono qui per lavoro. Sono qui per lavoro. Sono qui per lavoro. è la mia prima visita. È la mia prima visita. È la mia prima visita. Ho intenzione di rimanere un mese Ho intenzione di rimanere un mese Ho intenzione di rimanere un mese Wann wird das Flugzeug abfliegen? Quando partirà il volo? Quando partirà il volo? Quando partirà il volo? Das ist mein Flug Questo è il mio volo Questa è la mia valigia Questa è la mia valigia L'hotel è vicino L'hotel è vicino L'hotel è vicino Hier links abbiegen Gira a sinistra qui Gira a sinistra qui Gira a sinistra qui Ist das der Preis? È questo il prezzo È questo il prezzo Das ist zu teuer È troppo gustoso È troppo gustoso È troppo gustoso Das ist günstig Gosta poco Gosta poco Gosta poco Gosta poco Wo bezahle ich? Dove devo pagare? Dove devo pagare? Dove devo pagare? Hier è un'Italia. Ecco il tuo resto. Ecco il tuo resto. Ecco il tuo resto. Wo ist die nächste Bank? Dov'è la banca più vicina? Dov'è la banca più vicina? Dov'è la banca più vicina? Dov'è il centro commerciale? Dov'è il centro commerciale? Dov'è il centro commerciale? Cosa vuoi comprare? Cosa vuoi comprare? Cosa vuoi comprare? Dov'è il centro commerciale? Cosa vuoi comprare? Cosa vuoi comprare? Dov'è il centro commerciale? Cosa vuoi comprare? Cosa vuoi comprare? Cosa vuoi comprare? Dov'è il centro commerciale? Cosa vuoi comprare? Cosa vuoi comprare un film? Cosa vuoi comprare un paella? Cosa vuoi comprare un tot medico? Cosa vuoi comprare un paella? Voi comprare un indotator. Dov'è l'ospedale più vicino? Dove posso comprare una bici? Dove posso comprare una bici? Bistu hungrich? Hai fame? 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 Vuoi qualcosa da bere? Vuoi qualcosa da bere? Vuoi qualcosa da bere? Sei carina oggi? Sei carina oggi? Sei carina oggi? Sei carina oggi? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove vivi? 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 Ich verstehe nicht. Non capisco. Non capisco. Non capisco. Wo arbeitest du? Dove lavori? Dove lavori? Dove lavori? Ich arbeite im Restaurant. Lavora al Ristorante. Lavora al Ristorante. Lavora al Ristorante. Ich bin arbeitslos. Sono disoccupato. Sono disoccupato. Sono disoccupato. Lavoratore autonomo. Sono un lavoratore autonomo. Sono un lavoratore autonomo. Ich arbeite zurzeit nicht. Al momento non sto lavorando. Al momento non sto lavorando. Al momento non sto lavorando. Wo ist das Front Office? Sono occupatore. Sono occupato ora. Abbiamo un incontro alle nove del mattino. Abbiamo un incontro alle nove del mattino. Abbiamo un incontro alle nove del mattino. Abbiamo un incontro alle nove. Ho tre computer. Ho tre computer. Ho tre computer. Questa è una grande opportunità. Questa è una grande opportunità. Questa è una grande opportunità. Per quanto tempo hai lavorato qui? Per quanto tempo hai lavorato qui? Per quanto tempo hai lavorato qui? Lavoro qui da anni. Lavoro qui da anni. Lavoro qui da anni. Hai ricevuto la mia e-mail? Hai ricevuto la mia e-mail? Hai ricevuto la mia e-mail? Posso richiamarti più tardi? Posso richiamarti più tardi? Voglio parlare con il direttore. Voglio parlare con il direttore. Chi è il tuo capo? Chi è il tuo capo? Chi è il tuo capo? Das copiergerät funktioniert nicht. La fotocopiatrice non funziona. La fotocopiatrice non funziona. La fotocopiatrice non funziona. Devo fare una copia. Devo fare una copia. Devo fare una copia. Devo fare una copia. Ne vuoi una copia? Ne vuoi una copia? Devo fare una copia. Devo fare una copia. Devo stampare questo documento. Devo stampare questo documento. di fare una copia. Devo fare una copia. Devo fare una copia. di fare una copia. di fare una copia. Hai firmato il contratto. Hai firmato il contratto? Hai firmato il contratto? di fare una copia. Hai firmato il contratto. Hai firmato il contratto. Hai firmato il contratto. Ho bisogno di depositare un assegno. Ho bisogno di depositare un assegno. Ecco il passaporto. Ecco il mio passaporto. Ecco il mio passaporto. Dove sono i Taxi? Dove sono i Taxi? Sono un turista. Sono un turista. Sto cercando questo indirizzo. Sto cercando questo indirizzo. Dov'è questo posto? Dov'è questo posto? Dov'è questo posto? Dov'è questo posto? Sono qui per lavoro. Sono qui per lavoro. Sono qui per lavoro. È la mia prima visita. È la mia prima visita. È la mia prima visita. Ho intenzione di rimanere un mese. Ho intenzione di rimanere un mese. Ho intenzione di rimanere un mese. Quando partirei il volo? Quando partirei il volo? Questo è il mio volo. 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 Questa è la mia valigia. Questa è la mia valigia. Questa è la mia valigia. L'hotel è vicino. L'hotel è vicino. Hier links abbiegen. Gira a sinistra qui. Gira a sinistra qui. Gira a sinistra qui. Ist das der Preis? È questo il prezzo? È questo il prezzo? È troppo costoso. È troppo costoso. È troppo costoso. Das ist günstig. D'intenzimento. Costa poco? Kosta poco. Dove devo pagare? Dove devo pagare? Dove devo pagare? Dove devo pagare? Dove è la banca più vicina? Dove è la banca più vicina? Dove è il centro commerciale? Dove è il centro commerciale? Dove è il centro commerciale? Cosa vuoi comprare? 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 Vuoi vedere un film? Vuoi vedere un film? Vuoi vedere un film? Dove posso noleggiare una macchina? Dove posso noleggiare una macchina? Dove posso noleggiare una macchina? Vuoi andare al parco? Vuoi andare al parco? Vuoi andare al parco? Dove è l'ospedale più vicino? Dove è l'ospedale più vicino? Dove è l'ospedale più vicino? Dove posso comprare una macchina? Dove posso comprare una bici? Dove posso comprare una bici? Bistu hungrig? Aifame. 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 Ich bin hungrig. Ofame. Aifame. Aifame. Bistu durstig? Aicete. 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 Möchten Sie etwas zu trinken? Du siehst heute gut aus. Saikarina Oji. Saikarina Oji. Saikarina Oji. Aicete. 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 Aicete.